Un report sull'interattività non solo legislativa svolta dall'assise regionale nel corso dell'anno che sta per terminare. È stato questo il senso della conferenza stampa convocata dal Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, un'occasione utile anche per illustrare numeri e dati. Eccone alcuni. Sono state 20 le sedute consigliari, 48 le leggi regionali promulgate, 135 le delibere, 36 le proposte di legge presentate, 16 delle quali approvate, 34 invece i disegni di legge presentati e 24 quelli approvati. Molte anche le attività svolte per fini culturali e sociali, tra questi varie iniziative rivolte ai giovani come il progetto Next Generation che ha coinvolto circa 850 studenti. Attenzione anche alla cultura con diverse iniziative per i 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro e ancora iniziative a sostegno della legalità con, tra tutte, le celebrazioni della giornata in memoria della strage di Capaci. Consueto appuntamento con il premio Esther Scardaccione e l'inaugurazione della stanza blu invece tra le attività a sostegno dei diritti. Un anno complicato ma ha dei risultati buoni. Io sono soddisfatto del lavoro svolto dall'assise regionale e i numeri che sono stati appena rappresentati, gli eventi che sono stati rappresentati dimostrano davvero quanto impegno ci sia stato da parte dell'assise regionale. Non nascondo le difficoltà legate ai numeri ma nonostante questo il senso di responsabilità dell'assise dei consiglieri tutti ha prevalso, quindi ha prevalso il buonsenso e pertanto abbiamo avuto l'opportunità di mettere a segno e di licenziare numerosissimi atti come leggi importanti, ricorderemo tutti proprio pochi giorni fa quella sul Garanda, era un impegno che avevo preso. A margine della conferenza stampa è stata poi presentata la collezione fotografica di Ron Galella donata al Consiglio regionale. Per l'occasione la sala basento del Palazzo del Consiglio è stata allestita con diversi scatti del fotografo italo-statunitense.